buonasera buonasera stiamo trasmettendo da radio ma no radio vaticano a radio godo radio godo let's go una nuova radio web una che sono praticamente pochissimo tempo due anni con lo siamo con lo sciamano qui vicino caro sciamano per la prima volta intervisto lo sciamano allora domanda che si fa diritto allo sciamano quanto pesa peso 75 kg al garese però sto in fase di dimagrimento ho mangiato solamente un panino oggi peraltro non era neanche un granché non me ne frega assolutamente delle webserie però sto qui perché oggi si mangiava si beveva e allora ho approfittato ero molto più interessato alle signorine che passavano qui vicino tacco 27 peso ogni scarpa 5 kg e un airbag non da poco due airbag da poco io sono una persona che di solito non si accorge mai di questa cosa ma in questo caso lo seguite molto attentamente ma ultimamente però ho molto interesse per queste cose non so per quale motivo scusi ma per quale motivo ah ecco capito per la loro capigliatura solo eh che bugiardo yes yes un saluto da radio godò da fabio marini e lo sciamano ciao